ciao a tutti gli amici del bolter oggi è sabato e quindi riapriamo la nostra rubrica dedicata a magic ovviamente come avete già visto le mie espansioni preferite che sono battaglia per zendikar e il giuramento dei guardiani a disposizione e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa ovviamente oggi è sabato e quindi iniziamo a ricordarvi anche gli appuntamenti di questa fine settimana intanto per tutti gli amici canaglia oggi c'è la presentazione a vinci di darwin e rascal con i due autori presenti mentre per voi che giocate a yugioh ovviamente con la bottega di lanza siamo tutti pronti per fare il torneo che facciamo tutti i fini settimana qua in negozio la prima rara intanto l'avete vista è un bel drazzone ci sta tutto ora andiamo qui a giuramento dei guardiani mentre domani domenica ovviamente per tutti gli amici canaglie trovate rascal a varchi comics presente con lo stand ospite della fiera e invece per voi volteristi trovate sia la bottega di lance che manuel ha la fiera di pisa dedicata ai giochi da tavolo che è andata un pochino meno bene quindi gli appuntamenti ve li abbiamo ricordati io vi aspetto in via santa maria a carrara tutti i giorni quindi anche oggi e per invece tutti gli altri appuntamenti dovete per forza di cose sentire il video alla prossima ragazzi